Patto tra Campania Digital Innovation Hub, Regione e CDP, Fondo Nazionale per l'Innovazione e per lo sviluppo dell'ecosistema innovativo campano. Dall'incontro svoltosi presso l'Unione Industriale di Napoli è emerso che in Campania c'è già una struttura pronta a ricevere e valorizzare fondi governativi e regionali sull'innovazione e la competitività del sistema produttivo. Le risorse ci sono e ci sono anche gli attori, le progettualità e i programmi di sviluppo per liberare il potenziale di un'area fondamentale del paese coinvolgendo soprattutto i giovani come spiega l'assessore regionale all'innovazione Valeria Fascione. È evidente che dopo un anno ci sono delle imprese che hanno ovviamente delle difficoltà molto molto serie e di nuovo insieme il governo e la regione insomma con le regioni, quei territori stanno lavorando per dare ulteriori incentivi ma soprattutto incentivi che non siano fino a se stessi ma appunto anche come stiamo lavorando oggi qui che lavorino su quelle dinamiche di sviluppo, cioè su quegli strumenti che poi permettano di crescere con maggiore velocità. Cioè bisogna guardare al futuro e quindi in qualche modo recuperare i danni ma avere una prospettiva insomma di crescita. A introdurre l'incontro Maurizio Manfellotto, presidente Unione Industriale di Napoli e Luigi Nicolais, presidente di Campania D. I gap tra le diverse aree del paese sono ancora molto forti ma ora ci sono tutti gli strumenti per poterli superare col mare, a cominciare da azioni mirate a supporto delle aziende. Questo è il pensiero del direttore del Campania D, Edoardo Imperiale. Stiamo come Digital Innovation Hub con tutta la rete confindustriale, con i partner tecnologici proprio lavorando perché le nostre aziende possono dotarsi di strumenti tecnologici, di soluzioni innovative in grado appunto di rafforzarsi proprio sui mercati internazionali e proprio su questo c'è grande sintonia con la regione Campania, proprio insieme all'assessore Valeria Fascione stiamo definendo un programma congiunto, coordinato che vedrà coinvolti tutti gli attori che a livello territoriale possono dare una mano e un contributo in tale direzione.